Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo video, io sono Daniel Jail Ok, allora, sono Daniel Jail e oggi siamo trattati di nuovo su Russian Carol Drive 3D Praticamente l'ultima volta che l'ho fatto, come vedete continuo a vedere la Fiat Panda Perché questa sa fare le drappate, tac, ola Beh, queste si fanno le drappate, proprio la mia maestria, la mia maestria fa creare Non lo so perché, ma, ok Ok, aiuto, si sta cresciando, aiuto Aiuto, aiuto Perché faccio così, no, sto mandato con la colpa, se no perché La precedenza, signora, la precedenza Non so perché mi comporto così, ma mi diverte Provelo GTA V può accompagnare Non può accompagnare niente Um Tac Ole 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 Preparatevi Ragazzi, aggiungiamo qualche canzone di sottofondo Però col tempo, no, perché qua non c'è una cartella Ok, ragazzi, allora ho messo questa canzone di sottofondo Ok Sfoghiamoci Ok 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 Ragazzi, no Non so perché mi ha messo questa canzone, ma la lì Mi ha aspettato che mi ha messo così oh Mi ha messo così oh Ho scutato Ok Mi ha filiata che il music è tuo Gli dà un senso e cose No TASK E' una figata OLEEEE Madò che drappata Dove l'Obamma delle sue medaglie Stai calmo TAC Bene So guidare Dove va il Sebastian Vettel Lo voglio finire TAC Ok TAC Bene Madò 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 TAC Bene è venuto grandioso TAC TAC Gli altri ragazzi non è che mi sono spattuto col muro no perchè se no la vostra macchina pagavo soldi Non pagavo il mio male ma la pagavo io Oppure peggio pagavo gli stadi Eh Buongiorno di Ok Sì Ah qua è rosso Sì ok Andiamo Andiamo a resta Quindi Precioso Bene Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Con quale fisica Questa canzone mi da un concentrazione incredibile perchè sono circa le 12.55 dovrei andare a mangiare Questa è il modo per come parcheggio quando vado a mangiare va bene Ma perchè sto facendo così mi gasa troppo questa canzone lo so che ho fatto Ho visto che nel 2017 ha raggiunto un miliardo di misurizzazione Oh Eh volevi mi scusi sono da troppo soluzione Ma va con qui Ciao Buongiorno signora Buongiorno Buongiorno Che fai dai drappate manche Via 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 Tu non mi toccherai Tu non mi toccherai Ok ok no 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 va in seguito devo stoparlo non l'ho detto un co stop ok no ce l'ho fatta raga cambiamo macchina e soprattutto cambiamo anche canzone che questa mi sta disturbando tante ho anche un po di quelle teste adesso ma che intanto guardate un po' la pubblicità intanto trovo un'altra canzone che canzone posso mettere? non la so ragazzi sto riflettendo questa è una canzone che te conosciamo sempre è morta no la conosce devo trovare quella normale perché guarda è veloce dovrebbe essere qui è quella perfetta allora mettiamo in una macchina proprio con le donne mi sto facendo aria perché sono in mutande e mi sono più di farmi vedere che sono in mutande mettiamo mettiamo vabbè mettiamo questa basta se non sparare taglie pronti ad entrare nella musica? pronti? 3, 2, 1 e taglie ok bene ha funzionato a casa no si è spento il telefono tua sorella vende i gelati dove sono passato? no 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 fermo fermo dove sono dove sono normalmente no torniamo indietro questa sì che è sexy no la macchina la canzone non c'erano come esso no allora qui come? che fisiche? no vabbè sentite dove è jace bond, Obama, Valentino, Valentino, no Valentino, non si riderebbe perché ce lo so e non fa più stare domande di commenti e un'altra cosa ragazzi domani ho l'esame finale tipo quello orale dove dovete dare il commento buona fortino perché non ho bisogno e poi appena ho finito facciamo festa no a parte che domani ho il giorno libero tac è più lenta tac vai 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 olè ho la stata libera togliettili dalle scapre c'è tanto la vita è mia dai 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 buongiorno bene vabbè mi sono arrivato stato come un lubriaco vabbè basta è che fallo sta pubblicità per caso c'è questo uso come antistress vabbè mettiamo vabbè mettiamo questa macchina prigione ti prego non parliamo più di questa canzone ti prego ti già sta diventando satanica perché questa tipa è stata non fatemi domande toglia la cazzola basta dal telefono si è trasportata di botto di giacca che la pubblicità di amanus è nata di già circa non lo so però quest'anno è nata proprio proprio l'applicazione dove fai le musica le ricostruzioni è proprio diventata famosissima perché mi dovrei amputare la mano no 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 ferma ferma perché vai in mancia perché si paga bene bene o l'è o l'è o l'è o l'è o l'è madonna 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 piena 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 raga ho scoperto che c'è una aspetta devo farla aspetta a te rimanente così mi sembrava fortnite razio mi da un metro ma che deficienti ma chi è che fa che era sti giochi schifosi e vabbè no 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 aspetta ecco 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 questo era prima di iniziare a guidare che posizione sexy baby raga c'è un canto bestia altora il sudore ecco per niente funziona che tu giri so che vi verrà da vomitare ma devo farlo quanto sono bello no no non frenare non frenare piano guarda che figata guarda che figata vi verrà da vomitare se vi viene a vomitare è piato un sacchetto per il vomito no prima stoppate il video e vi apri un sacchetto per il vomito ma perché si deve baggare 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 fai ok bene era addormentata ok per il mio ce l'ha in fondo e poi sto gioco non lo facciamo più io ce ne voglio che per il giovedì il prossimo introdurre un gioco rispetto no no proprio un uomo proprio bello che fa ridere dalle risate perfetto ho parcheggiato comunque ragazzi se il video devo andare a mangiare perché ho fame e comunque ragazzi spero che il video vi sia piaciuto soprattutto ringraziamo Camilla di Havana che è stata gentile a farmi lo fai se il video vi è piaciuto è stato molto ok se il video vi è piaciuto è stato molto e mi piace anche la pagina di facebook comunque non lo trovate perché sto facendo questa sezione trovate il video di facebook il video trovate nella descrizione se non sarete con gli iscritti ogni volta a farlo mi soffoca la gola e se non sarete con gli iscritti scherzo e riusciamo al prossimo alla prossima alla ragazzi